Ben trovati in un'edizione del nostro telegiornale. Torniamo a parlare subito della manovra del governo Meloni, presidio ai piedi della presidenza della regione Puglia organizzato dalla Will Puglia. Nel mirino appunto la manovra Emiliano parla e afferma che è una manovra finanziaria che non serve a nulla, ha detto il presidente. I governi di destra non tutelano i lavoratori. Sentiamo. La Will Puglia torna in piazza. Lo fa per protestare contro la manovra del governo centrale. Il presidio è stato organizzato sotto la sede della presidenza della regione Puglia, a Bari, con l'obiettivo di chiedere al governatore Michele Emiliano di intercedere in sede di conferenza Stato e Regioni contro una manovra che considerano iniqua e che acquisce le diseguaglianze sociali. Questa è una manifestazione contro il governo nazionale perché ha fatto una legge finanziaria onestamente che non serve a nulla e quindi tutti i sindacati sono allarmati del fatto che si agevolano per esempio le tassazioni sulle rendite finanziarie e si è fatto pochissimo sulla tassazione di chi poi le tasse le paga sul serio perché con i soldi di queste persone viene finanziato tutto il resto. Perché ovviamente chi ha un lavoro dipendente rischia di pagare più soldi di chi invece ha un lavoro autonomo. È vero che i lavoratori autonomi hanno meno garanzie ma forse la soluzione è dare garanzie ai lavoratori autonomi, non quelli di far pagare le tasse solo ai lavoratori dipendenti e quindi c'è una forte protesta da parte di tutto il mondo del lavoro e la Regione Puglia come istituzione ascolta questo dolore da parte di tutti i lavoratori in un momento difficilissimo. In ogni casa quest'anno si potrà spendere meno di quello che si è espresso negli anni passati a causa della situazione che si è venuta a creare. Come vedete qui ci sono anche tanti pensionati che non solo hanno pensioni che non sono cresciute a differenza di quello che gli avevano detto in campagna elettorale ma peggio, devono pure campare tutti i loro nipoti e figli che non trovano lavoro e l'unica cosa che questa finanziaria ha pensato di fare è di ridurre il reddito di cittadinanza quando invece sarebbe bastato consentire per esempio alle pubbliche amministrazioni di fare le assunzioni che servono al sistema sanitario di fare le assunzioni che servono. Non è una soluzione però è sempre meglio che tenere la gente per strada disperata. A suo parere c'è margine di intervento su questa finanziaria? Non credo perché questo è un governo di destra quindi i governi di destra non fanno cose per i lavoratori questa è una cosa che tutta questa gente se la deve ricordare. Si è riunito a Potenza il Consiglio regionale della Wilm Basilicata la presenza anche del segretario nazionale Wilm Gianluca Ficco Dopo la pandemia la guerra ha contribuito al rallentamento dell'industria lucana un settore che necessita di adottare scelte rapide strutturate per porre argine alla crisi energetica attraverso politiche non più rinviabili che portino alla transizione energetica. Questo in estrema sintesi il messaggio che è stato lanciato da Potenza nel corso del Consiglio regionale della Wilm Basilicata i metalmeccanici lucani si sono riuniti presso il parco del seminario e hanno affrontato questi temi alla presenza tra gli altri del segretario regionale Wilm Basilicata Marco Lomio del segretario generale Wilm Basilicata Vincenzo Tortorelli e il segretario nazionale Wilm Gianluca Ficco responsabile del settore auto. Prevedendo le grandi difficoltà che sarebbero arrivate a causa del processo di elettrificazione non solo in Basilicata ma certamente anche qui a Melfi abbiamo di fatti circa un anno fa fatto un accordo importantissimo per allocare nel grande stabilimento di Melfi una nuova piattaforma completamente elettrica e questo vale ad assicurare il futuro ma non basta chiediamo alle istituzioni di darci una mano per affrontare un altro punto che potrebbe diventare un elemento di forza di questa regione vale a dire l'aspetto energetico. Un'analisi che in Basilicata non può prescindere dalle sorti dello stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi più grande e polo produttivo della regione che tra azienda principale e indotto offre lavoro a circa 10.000 persone. La situazione dell'indotto al momento siamo in attesa di capire queste nuove gare come vengono sviluppate però evidentemente noi l'abbiamo chiamato il patto per Melfi oggi Melfi può diventare dopo l'accordo del 25 giugno dell'anno scorso però evidentemente l'indotto è legato a stretto filo con quello che succederà in Stellantis e soprattutto a quello che riuscirà insieme alle istituzioni a mettere al centro come rilancio del futuro di quello stabilimento. E cambiamo argomento, la città di Bari ospiterà domani 21 dicembre una veglia di preghiera per la pace tra i presenti il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, conferenza episcopale italiana e anche Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa è stato presentato il programma della giornata. La città di Bari è pronta ad accogliere la veglia di preghiera per la pace promossa dalla conferenza episcopale italiana e dall'Arcidiocesi di Bari-Bitonto nella Basilica di San Nicola. Il capoluogo pugliese quindi si conferma ancora una volta crocevie di relazioni, di pace e di attenzione nei confronti dei popoli del mondo che vivono situazioni di difficoltà. Alla veglia prenderà parte il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI al fianco dei vescovi pugliesi, della Chiesa Ortodossa e della Chiesa Greco-Cattolica in Ucraina. Ci si riunirà quindi alle 17.30 del 21 dicembre per l'accoglienza delle autorità e il saluto del cardinale Zuppi, dell'Arcivescovo di Bari-Bitonto, Monsignor Satriano del Rettore della Basilica di San Nicola, padre di Stante del Governatore pugliese Emiliano e del Sindaco di Bari, De Caro. Credo che questa sia un'opportunità di grazia per il nostro territorio per la nostra Chiesa italiana, per tutta la Chiesa e per tutte le Chiese. Farci carico della fatica di questo momento, vivere accanto nella preghiera un momento di condivisione e di solidarietà, credo che sia alla Vigia del Natale un gesto di grande portata, semplice e umile nel suo genere, ma significativo nel aprire il cuore ai problemi dell'Ucraina e della Russia, ma anche ai problemi che l'umanità sta vivendo con tutte queste guerre diffuse e dimenticate. Alla Viglia sarà presente anche Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa. Un gesto, credo, anche bello. Oltre alle nostre istituzioni, che ci sia anche l'istituzione del Governo, credo che sia importante perché dice come anche il Governo in questo momento avverte che momenti come questi siano momenti di coesione, momenti anche di costruzione di una solidarietà comune intorno ad un problema che non ci può lasciare indifferenti. Dopo il momento di preghiera che si svolgerà sul presbiterio della Basilica di San Nicola, la parte finale invece si svolgerà nella cripta con un momento di preghiera silenziosa al quale parteciperanno tutti i Vescovi di Puglia. La preghiera è proprietà di tutti, non può essere vissuta con un pass. Io credo e sento importante che questo momento accolga tutte le persone che vorranno venire in pellegrinaggio a San Nicola. Certamente non entreremo tutti quanti dentro, ecco perché abbiamo previsto la possibilità di un maxischermo all'esterno che pur in una condizione climatica non favorevole però possa aiutare chi rimarrà fuori a partecipare intensamente a questo momento di grazia. La cronaca due arresti e tre denunce della squadra mobile di Brindisi nell'ambito delle indagini, dei disordini e gli incendi che si sono verificati ieri nel centro di permanenza per il rimpatrio di Resinco Brindisi dove è morto intossicato un 38enne di origine marocchina. Gli arrestati sono un uomo originario della Tunisia e un altro invece georgiano. Entrambi sono accusati di aver cagionato la morte del cittadino marocchino come conseguenza del reato di danneggiamento della struttura pubblica. I due, dopo l'interrogatorio, si trovano ora nel carcere di Brindisi. Incidente mortale ieri nel Foggiano. L'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei soccorritori del 118 giunti con un'ambulanza sul posto per un quarantenne originario della Romania. L'uomo nel tardo pomeriggio è caduto da una scala in via Pozzo a Carpino, piccolo comune garganico, mentre stava effettuando dei lavori in prossimità di un palo della pubblica illuminazione. Accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'uomo lascia moglie e figli. Furti nella notte nel mercato coperto di Corso Mazzini a Bari, derubate attività commerciali per migliaia di euro di danni, presi di mira i prodotti alimentari che i commercianti avevano rifornito in vista delle festività natalizie. La notte scorsa ladri in azione nel mercato orionale di Corso Mazzini a Bari, svuotati i box delle salumerie. Stamattina alle 4 sono stato contattato da alcuni colleghi pescivendoli che arrivano prima e mi hanno chiamato dicendo che il box era tutto aperto. E cosa le hanno rubato? Tutto. Tutto quello che avevo preso questi giorni per il Natale. Forme di grana, forme di parmigiano, due provoloni, otto pezzi di prosciutto crudo. A quanto ammonta il danno? Intorno alle 10.000 euro. Non soltanto lei è stato preso di mila? Sì, anche altre salumerie. In cinque. Cinque salumerie, tutte aperte. La prima volta che accade qui? La prima volta, sì. Perché prima avevamo l'autogestione e avevamo la guardiania pagata da noi. Quanta merce le hanno rubato? Il super giuro a testa e croce, un 1500 euro di merce e 500 euro in contanti che dovevo pagare il box del mensile e la luce. Avevo messo da parte perché diceva tu qua le lasci. Però siccome dovevo andare a pagare, poi mi servivano per pagare i fornitori, le avevo lasciate qua. L'inflazione, dati allarmanti dalla Coldiretti Puglia, la spesa alimentare ha un costo maggiorato di 650 euro a famiglie con aumenti dei prezzi al dettaglio, soprattutto per frutta e verdura. Oltre un miliardo di euro in più per la spesa a tavola dei pugliesi nel corso del 2022. A comunicarlo è Coldiretti Puglia che individua le cause di questi aumenti nell'incremento dei costi energetici. L'aumento della spesa per ogni singola famiglia è pari a 650 euro. Otto consumatori su dieci sono quindi portati a stilare una lista della spesa prima di entrare in un supermercato, in modo da evitare di lasciarsi andare a spese folli, quando l'aumento dell'inflazione per i beni alimentari è del 13,6% nel mese di novembre, con particolari picchi per frutta e verdura che aumentano i loro prezzi al dettaglio del 6,5% e del 25,1%. Per questi motivi i consumi di questi alimenti sono diminuiti nel 2022, registrando dati minimi da inizio secolo. Tendenze che inevitabilmente si ripercuotono sulle imprese, dove l'aumento dei costi di produzione colpisce duramente l'intera filiera agroalimentare, a partire dalle campagne, dove più di un'azienda agricola su dieci in una situazione così critica da portare all'accessazione dell'attività. L'approvvigionamento alimentare è assicurato in Puglia, ha aggiunto col diretti, grazie al lavoro di oltre 100.000 aziende agricole e stalle, più di 5.000 imprese di lavorazione alimentare e una capillare rete di distribuzione tra negozi, supermercati, discount e mercati contadini di Campania Amica. Quello che serve è un accordo di filiera tra imprese agricole e industriali, ha concluso col diretti Puglia, per contenere il caro energia e i costi di produzione, oltre che per salvare aziende e stalle. Nasce a Bari l'Accademia della Meccanica, il primo progetto per la formazione di tecnici specializzati per l'inserimento nell'industria. La prima Accademia della Meccanica nasce a Bari per formare giovani specializzati da inserire nel mondo del lavoro, in particolare nel settore dell'industria. Il progetto di formazione professionale è stato sviluppato da Confindustria Bari e BAT, in partnership con IFOA e Federazione Generation Italy. In particolare l'Accademia della Meccanica nasce per formare nuovi tecnici operatori e manutentori meccanici da inserire nelle aziende delle province di Bari e BAT. È un'iniziativa che raccoglie il grido di allarme delle aziende, è un'iniziativa che cerca di portare a terra tutta una serie di attività, di richieste che le aziende hanno fatto in questi mesi in termini di occupabilità, perché di lavoro ce n'è, solo che c'è bisogno di lavoro specializzato, lavoro competente, lavoro che abbia una qualifica almeno minima. Oggi presentiamo un lavoro che non è quello dell'ITS, che non è quello dell'alta specializzazione come quello dei Politecnici. Oggi presentiamo un progetto che tende con il modello IFTS di 300 ore di formazione a definire una figura che possa essere poi ricostruita o quantomeno raffinata all'interno delle aziende e possa rispondere a bisogni immediati delle aziende, perché oggi le aziende hanno bisogno di personale spendibile subito in quanto hanno commesse, hanno lavoro da realizzare, da fare e che perdono perché non hanno personale specializzato. Un progetto che appunto da un lato cerca di dare risposta alle aziende che faticano a trovare il personale e le persone con le competenze di cui hanno bisogno e dall'altro però abbiamo dei ragazzi che appunto faticano ad entrare nel mondo del lavoro e quindi speriamo di riuscire a dare un'opportunità a entrambi facendoli incontrare attraverso le competenze. La Polizia Stradale compie 75 anni, eventi celebrativi in tutta Italia, per l'occasione poste italiane ha realizzato un francobollo. Siamo stati a Bari dove in esposizione in piazza c'era anche la Lamborghini del Corpo. Un gazebo per ottenere sulle cartoline stampate per la circostanza l'annulo filatelico dedicato all'anniversario. Parliamo della giornata celebrativa per i 75 anni della Polizia Stradale. L'iniziativa a Bari è stata organizzata nella piazza ai piedi della prefettura, dove curiosi e scolaresche hanno potuto conoscere le attività del Corpo ed anche ammirare la Lamborghini della Stradale. È una celebrazione che è stata organizzata insieme a poste italiane appunto per i 75 anni della Polizia Stradale con un annullo filatelico dedicato appunto alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato. Lo scopo di queste manifestazioni, che prevedono anche il coinvolgimento degli istituti scolastici, è quello di avvicinare i giovani al tema della sicurezza stradale, perché appunto come la cronaca di questi giorni ci mette a conoscenza, numerosi sono i giovani che vengono coinvolti negli incidenti stradali, spesso mortali. E quindi la presenza dei giovani serve appunto a infondere questa cultura della sicurezza stradale che bene appunto faccia parte del percorso anche scolastico in modo da far formare dei cittadini che quando nel momento in cui avranno la patente, guideranno un'autovettura o un ciclomotore, un motociclo, possano appunto avere la consapevolezza di quello che è il rischio che corrono personalmente e che fanno correre agli altri, se non si guida nel rispetto delle norme. A Bari un convegno relativo alle nuove tecniche di cura del tumore alla mammella e alle breast unit organizzato da Sanitanova con il contributo di Sigen e Gilead. Sentiamo. Oggi a Bari parliamo di breast unit di tumore alla mammella in questo importante convegno Breast on Care organizzato qui in Regione Puglia da Sanitanova con il contributo non condizionante di Sigen e di Gilead. Di cosa parliamo quando parliamo di breast unit? Facciamo riferimento a delle unità operative presenti ormai su tutto quanto il territorio regionale che si occupano della corretta e rapida gestione della donna affetta dal tumore alla mammella. Le breast unit nella Regione Puglia sono una bella e consolidata realtà che ora state anche analizzando nei dettagli per l'accreditamento. Sono una realtà guida di tutto il resto della rete oncologica, lo sono ormai da maggio 2018 quando le abbiamo istituite e lo sono anche per le malattie non oncologiche perché in realtà sulle breast unit stiamo collaudando metodologie, modi di lavoro e anche modi di progettare e verificare la qualità. E anche sulle breast unit in qualche modo si partirà per la prima volta in Puglia con l'istituzione di quelli che sono i PROMS e i PREMS che sono per esempio degli strumenti per monitorare i risultati di salute dal punto di vista del paziente. La paziente quando scopre di avere un tumore della mammella nei centri di breast unit viene presa in carico e gestita da un team multidisciplinare? Il team multidisciplinare è l'elemento qualificante delle breast unit ed è il motivo per cui la paziente deve essere eseguita all'interno dei centri. Le decisioni che si prendono in un team multidisciplinare sono le decisioni di sicurezza e garanzia per la paziente. Non è più pensabile immaginare la patologia avanzata come una patologia senza chance terapeutiche. Abbiamo nuovi farmaci, abbiamo possibilità di far diventare la patologia avanzata una patologia cronica e questo vuol dire per noi dover dare assistenza per tanto tempo con nuovi farmaci con effetti collaterali gestibili ma che dobbiamo imparare a conoscere. Diventa sempre più importante riflettere sul ruolo delle pazienti che diventano dei soggetti attivi di cura. Sì, oramai, al giorno d'oggi, la presenza del paziente esperto è un valore aggiunto non solo per portare avanti la voce delle altre donne ma soprattutto per essere presenti ai tavoli regionali di decisione. Amaterà ieri l'inaugurazione dell'Emporio Solidale, il granello di Senape. Solidarietà e carità da parte della comunità parrocchiale di San Rocco a Matera un percorso connotato da tanta umanità che quest'anno si arricchisce di una struttura l'Emporio Solidale, il granello di Senape. Un luogo inaugurato lunedì 19 dicembre è nato per facilitare le operazioni di raccolta e distribuzione dei beni alimentari da consegnare ai bisognosi. Un sogno che si realizza per i volontari della parrocchia un segno tangibile dell'impegno di Don Angelo Tataranni. Tutte le famiglie che sono state ascoltate tutte le famiglie che vivono un bisogno, una necessità vivono in un stato di indigenza possono approvvigionarsi a tutto ciò che l'Emporio potrà offrire attraverso genere alimentari e quant'altro. Questi articoli che sono qui dentro da chi sono forniti? Da gesti spontanei di solidarietà della comunità? Sì, nella maggior parte sono stati donati da famiglie, persone anche aziende e c'è anche il contributo determinante del Banco delle Opere di Carità. La gente continua a portare tantissimo, i panettoni ci sono stati offerti, un po' di alimenti li abbiamo anche acquistati proprio perché l'Emporio potesse essere rifornito di quanti più generi alimentari e quindi poter dare a tutte le famiglie, a tutte le persone che si stanno rivolgendo questa possibilità di poter portare una spesa nutrita. E' stato approvato dalla Regione Basilicata il fondo Four Season per la destagionalizzazione dei flussi turistici. Si è svolta nella sala in guscio del Palazzo della Regione Basilicata a Potenza una riunione per presentare a tutti i soggetti che operano nel settore turistico, sportivo e religioso una misura dedicata alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Si chiama Four Season, appunto quattro stagioni, un nome che vuole indicare un'apertura al turismo per tutto l'anno, non solo dedicata al periodo estivo. All'incontro erano presenti l'assessore regionale alle attività produttive Alessandro Galella, il direttore generale dell'azienda di promozione turistica di Basilicata Antonio Nicoletti e diversi operatori interessati dalla misura per la quale l'ente regionale ha già stanziato un milione di euro. Somma hanno spiegato i partecipanti suscettibile di ulteriore incremento. Presentiamo con l'assessore alle politiche di sviluppo un avviso pubblico fortemente voluto dalla regione Basilicata per favorire la destagionalizzazione e consentire ai nostri operatori di lavorare a maggior regime anche nei periodi di bassa stagione. Non è soltanto l'occasione per presentare questo avviso ma è anche l'occasione per fare il punto su uno dei programmi che ci sta accompagnando per la ripartenza del turismo dopo la pandemia, il programma Party Basilicata. Era un impegno che avevo preso con gli albergatori, con le associazioni di categoria. La regione Basilicata darà il suo contributo per cercare di allargare il periodo della stagione più importante e quindi dare stabilità a tutti gli operatori del settore. Abbiamo iniziato con un milione di euro, confidiamo nell'intervento da parte di tutte le categorie interessate e se sarà necessario saremo pronti anche ad aumentare il capitale di investimento. Su TRM Network torna a Natale insieme il consueto appuntamento con il Natale sulla nostra rete con musica, divertimento e tanti racconti legati alle tradizioni del nostro territorio. Vediamo qualche piccola anticipazione. Studio vestito a festa, energia, fermento e tanta magia natalizia. Nello studio 2 di TRM Network sono già in corso le prove di Natale insieme, il programma condotto da Antonio Stornaiolo insieme a Maria Cristina De Carlo che a partire da domani accompagnerà il pubblico durante tutto il periodo delle festività natalizie. Un appuntamento che rappresenta ormai una tradizione all'insegna del divertimento, di tanta buona musica e risate assicurate con la speciale partecipazione di Uccio De Santi Sedino Paradiso. Non mancheranno i racconti di chi ogni giorno lavora per il territorio nel nome della solidarietà e dell'accoglienza. E poi ancora spazio alle tradizioni legate al Natale che contraddistinguono la Puglia e la Basilicata che saranno raccontate anche dal pubblico presente in studio e dalla travel blogger Manuela Vitulli che passeggerà per i borghi più belli vestiti a festa. Tra gli ospiti numerosi artisti già noti al grande pubblico tra cui il performer e frontman della Rimbaband Raffaello Tullo, il violinista tarantino Francesco Greco, la coreografa Simona De Tuglio, l'attrice e regista Elisabetta Tonon e tanti altri. Il tutto alietato in studio dalla musica del pianoforte del maestro Vito Galante che accompagnerà il racconto delle storie e delle tradizioni legate al Natale e dalla viva voce del pubblico raccolta in studio da Nicole Casciona. Natale insieme è tutto questo, intrattenimento e magia dal 21 dicembre ogni sera alle 20.30 e al termine di ogni puntata restate connessi per una seconda serata alle insegna di spettacoli trasmessi in esclusiva dai più importanti palcoscenici del mezzogiorno. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Arrivederci.